Arrivi in Donbass e quasi 8 anni di guerra, cosiddetta bassa intensità, li vedi tutti. La periferia di Donetsk ridotta così, una casa dopo l'altra, grandi e piccole come dopo un terremoto. Bassa intensità è la definizione tecnica di questo conflitto tra Occidente e Russia che dal 2014 stringe in una morsa questa regione, ma si tratta di una guerra che oltre ai danni materiali ha fatto 14.000 vittime, la maggioranza tra i civili. Centinaia, solo in questo quartiere che si chiama Oktyabreski, erano bambini. I americani e i russi parlano del Donbass, lei cosa si aspetta da questo negoziato? Devono trovare un accordo, ma devono anche spiegarci che differenza fa tra Russia e Ucraina. Siamo sempre stati un solo paese. Fino al 2014 il Donbass era la parte più produttiva e ricca dell'Ucraina. Oggi a tenerla a galla è l'aiuto che arriva dalla Russia, la grande madre di questo pezzo di terra, grande meno di un ventesimo dell'Italia e popolato ormai da poco più di 4 milioni di persone. Nel centro di Donetsk, capitale dell'autoproclamata Repubblica Indipendente, dopo il cambio di regime e di orientamento geopolitico dell'Ucraina, le ferite della guerra vengono rimarginate rapidamente. È un modo per dare lavoro, ma anche per sostenere moralmente una popolazione stanca della guerra, ma non delle sue motivazioni. A chi dice di essere stanco io rispondo che deve pensare a quelli che stanno sulla fronte adesso, con questo tempo, con la neve, con la pioggia, nelle trincee. Grazie.